C'è un'arma molto veloce In qualsiasi situazione Soprattutto in situazioni in cui C'è un fuoco intenso Quindi rendere il C9 Un vero e proprio fucile d'assalto Queste qua sono le statistiche dell'arma Come vedete l'XM4 697 uccisioni quasi mille E il C9 83 uccisioni quasi 100 Un po' la testa No Stavo per fare un devasto Vediamo se hai la presa Torretta no No torretta SAM È in teoria sbloccato la oro No C'è in teoria sbloccato la oro No No Vediamo se ho sbloccato la Mimitica Impossibile perché Avrò fatto un paio di kill Vittorio Vittorio Mi sa che ho sbloccato la mimitica Ora E' in mezzo Gli anti perché non sparano Prima che succedano ste cose No Perché si è messo in mezzo All'Aliato Faceva una doppia Facile Doppia No Eh sì Dopo ci geriamo una fatta Mi manca una scuola sette Eh ma Uh doppia Eccisione Oh Perché faccio una kill Dai Dai Per un'altra E basta La postazione è attiva I nemici hanno catturato la postazione Postazione conquistata I nemici hanno la postazione UAB nemico Oh A sto elicottero Lo buttiamo giù Meno male Non ci credo Non ci credo Dovete i colpi Doppia Eccisione L'ho fatta L'importante è che No Doppia Tripla E doppia La fatta Sicuro Oro Sbloccato la oro Sbloccato la oro Per la Per l'M4 C9 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 L'ho visto quello L'ho sentito Sì Guardatela Eccola La mimetica Oro Per l'M4 Guardate Mimetica oro Per l'M4 Guardatela Bostazione Bostazione Meterano Fateci dentro Quelle copse Bostazione conquistata No Bostazione Scusa Scusa Alleato Non volevo No No Merda NEMICO Forre 12 Richiedo Sorvolo Di Ricognizione Contazione Sicure Rinazza Neutralizzata E Sono 5 Arrivati Pronto All'arco Contazione Di Fila Di Fila Di Fila No 1 2 3 E Qua si Ho Dopo L'ho Fatti Ho Sparato A Manetta 4 5 6 7 Si Dopo L'ho Fatta Un'altra Comunque Siamo arrivati Al fine Video Lasciate Mi Piace Iscrivete Al canale Per Vedere Il Prossimo Video Di Quello Purtare Il C9 A Far La Mimetica Oro Commentate I Vidi Cosa Avete Sembrato L'XM4 Con la Mimetica Oro E ci vediamo Alla Prostima Avventura Ciao Per Riding Del Gaming